Ciao ragazzi, oggi con questo breve video voglio farvi vedere quali voci bisogna attivare nel Marlin per far funzionare al meglio lo schermo TFT. Molte volte ho sentito utenti che lamentavano problemi DSD non visibili, comandi mancanti in modalità touch, problemi con il cambio filamento nel comando M600, come le percentuali delle velocità dell'evento le scomparse. Con questo video andrò ad abilitare tutte le voci che risolveranno questi problemi. Prerequisito è che questo video è valido dalla versione Marlin 2.8.1 per il Marlin del TFT dalla XX.27. Mettiamoci al computer e andiamo ad attivarle. Allora ragazzi, io per questo esempio di configurazione ho scaricato l'ultimo Marlin, il 2.0.8.2 e andrò a lavorare su di esso. Non mi soffermerò sulla spiegazione delle voci che andrò ad attivare, visto che queste qui le siamo andate tutte ad approfondire nel Patreon con il corso Marlin. Per chi invece vorrà capire a cosa servono, gli basterà leggere sopra la descrizione che troverà ogni voce nel Marlin. Invece poi ci saranno tantissime altre persone che non gliene fregherà un fico secco, ma l'importante è che risolveranno il problema. Allora partiamo subito. Andremo a ricercare tutte le voci con il comando trova, quindi andiamo ad abilitarlo. Poi ci basterà incominciare a inserire la descrizione della voce. Per esempio in questo caso io inizio con EEPROM setting in configuration.h, poi EEPROM, quando inizio a scrivere già mi escono varie voci da scegliere. Ecco qui. Andiamo in define EEPROM setting e andiamo ad abilitarla. Questa è la prima voce che abiliteremo. Poi un'altra voce da ricercare, auto report temperature, ma lo andiamo a ricercare nel configuration adv.h. Quindi facciamo auto underscore report. Ecco, questo è il report sd status. noi cerchiamo report temperature. Eccolo qui già attivato. Define auto report temperature. Poi cerchiamo auto report position, che è proprio quello qui sotto. E andiamo ad attivare anche questo. Bene, sempre in configuration adv.h cerchiamo il comando m115. Eccolo qui. E allora andiamo ad attivare define m115 underscore geometry report. Attivato l'm115, attiviamo anche l'm114. Detail. Detail, scusate la mia pronuncia in inglese è sempre perfetta. E lo andiamo ad attivare. Dopo andiamo a cercare report fan change. Eccolo qui, già me l'ha trovato. Perfetto. e andiamo ad attivare anche questa voce. Poi andiamo ad attivare le opzioni per supportare la stampa dalla sd integrata. Quindi ritorniamo nel configuration.h. E cerchiamo sd support. E andiamo ad attivarlo. Dopo sd support ci spostiamo di nuovo in configuration adv.h. E cerchiamo long underscore long underscore file name. Eccolo qui. Long file name host support. E andiamo ad abilitarlo. Poi cerchiamo auto report sd status. Eccolo qui. Andiamo ad attivare anche questo. E infine riguardo la sd.sd card connection. E alla voce lcd andiamo a sostituire con on board. Ok. Poi abbiamo le opzioni per supportare la finestra di dialogo con l'host. E sempre in configuration adv.h. Cerchiamo emergency purser. Eccolo qui. E andiamo anche ad attivare questo. Poi cercate serial float precision. Serial float precision. Di default c'è un numero 4. Lasciamo tutto così. Andiamo solo ad attivarla. Poi cercate host action commands. E andate anche questa ad abilitarla. Poi cercate host prompt support. E abilitiamo. Bene. Poi per riguardo le opzioni per supportare l'M600 con host e menu unload e load. E le opzioni per supportare la finestra di dialogo con host come prerequisito. Andiamo in configuration.h. E andiamo ad attivare la voce nozzle park future. Cerchiamo dov'è la voce. Eccola qui. L'attiviamo. Questo qui abbiamo fatto un video dedicato nel Patreon riguardo al corso Marlin. Poi andiamo ad attivare advance pause future. Però lo troviamo in configuration adb. Eccolo qui. E andiamo ad attivarlo. Poi andiamo a cercare park head on pause. Dovrebbe essere qui giù. Eccolo qui. E infine filament load unload gcode. Andiamo ad attivare anche questa voce. Bene. Poi riguardo le opzioni per supportare il menu baby step ci basterà semplicemente andare a cercare la voce baby stepping. Andiamo ad attivarla. Poi qua potete settarvi le varie voci. Io ci ho dedicato tutto un video sempre nel corso Marlin. Poi abbiamo le opzioni per supportare il test di ripetibilità per testare la precisione della sonda col comando M48. E questo lo troviamo nel configuration punto H abilitando la voce Z min probe. Logicamente queste voci che stiamo andando a abilitare in questa parte finale sono tutte voci inerenti a chi ha un sensore per il livellamento del piatto. Eccolo qui. Andiamo ad abilitare anche questa voce. Poi infine abbiamo le opzioni per supportare l'allineamento di più Z stepper utilizzando una sonda del letto con il comando G34. Questo è un altro video che ho dedicato nel corso Marlin che lo reputo stupendo come comando. E lo andiamo a cercare nel configuration adb.h nella voce Z underscore stepper auto allineo. Eccolo qui. E andiamo ad abilitare anche questa voce qui giù. Poi giustamente ve lo dovete andare tutto a settare. Per chi non lo conosce questo comando andatevelo ad approfondire perché è un comando importantissimo. E con questo chiudo questo video. spero che risolva un po' di problemi a qualcuno. E ci vediamo alla prossima. Ciao a io. Se siete approdati in questo canale è perché siete appassionati di stampa 3D e volete esplorare il vasto mondo dei firmware per le vostre stampanti. Allora lasciate che vi presenti il mio ultimo libro il firmware Marlin edizione Gold. Questo libro è una guida completa e accessibile su come compilare un firmware personalizzato per la vostra stampante 3D. Approfondendo gli argomenti in modo chiaro e conciso il libro permetterà di padroneggiare il firmware delle vostre stampanti. Ho cercato in 5 pagine di semplificare i concetti complessi associati al firmware per renderli accessibili a tutti anche a coloro che sono nuovi nel campo della stampa 3D. Ogni argomento è spiegato in modo chiaro ed è accompagnato da esempi pratici, illustrazioni dettagliate e istruzioni passo passo. Sarà come avere un esperto accanto a voi pronto a guidarvi nel processo di compilazione del firmware ogni giorno che ne abbiate bisogno. Ad ogni lezione poi sono associate alcuni video che potrai trovare sul mio canale. Non perdere l'occasione di studiare e approfondire la tua cultura su questo argomento. Trovi il link in descrizione per acquistarlo.